Bentornati amici, oggi siamo qui per parlare di un paio di novità che sono state annunciate da Canon in ambito mirrorless. Come ben sapete, nonostante la mia resistenza iniziale, anch'io sono stato, diciamo, costretto a dotarmi di un corpo mirrorless e relativa ottica per il momento. Parlo al singolare perché ne ho una sola. Infatti qui ho la bellissima Canon EOS R, di cui vi ho già parlato in un video precedente, di cui ovviamente vi lascio la card. Quindi diciamo che ho toccato con mano quello che è l'universo mirrorless e mi sono reso conto delle sue potenzialità. Ora, dal momento che la casa produttrice ha annunciato che non produrrà più fotocamere reflex, è evidente che ci sono diversi modelli che dovranno andare a essere sostituiti nel corso degli anni. Canon ci ha abituato ai fuochi d'artificio, facendoci vedere una dopo l'altra l'uscita di nuove fotocamere full frame, una più strabiliante dell'altra. A partire dalla Canon EOS R siamo poi saliti di livello con la Canon EOS R5, EOS R6 e soprattutto la nuova ammiraglia EOS R3, che è una full frame con delle prestazioni a dir poco sbalorditive. Canon, dopo anni di letargia, ha tirato fuori veramente dei modelli che sono decisamente superiori a tutto quello a cui siamo abituati. Stiamo parlando ovviamente di fotocamere che vanno a rimpiazzare i vecchi modelli, quindi la 5D Mark IV è stata rimpiazzata sostanzialmente dalla Canon EOS R in primis, in quanto condividono lo stesso sensore e gran parte delle funzionalità. È semplicemente stato impiantato quello che è il comparto tecnologico della Canon EOS 5D, è stato impiantato dentro in un corpo mirrorless. Siamo poi saliti di livello con gli step successivi che ci hanno fatto vedere delle grandissime migliorie sia dal punto di vista della stabilizzazione che dal punto di vista dell'immagine. Ora però Canon ha annunciato qualcosa di diverso. Sono infatti stati annunciati ben due corpi macchina e si parlerebbe di corpi macchina con un sensore crop, un sensore APS-C. Quindi stiamo parlando di fotocamere mirrorless che andranno questa volta a rimpiazzare non più le full frame di fascia professionale, ma tutti quei sensori APS-C che molti di noi, me compreso, abbiamo in casa, perché io ho diverse fotocamere con sensori APS-C per tutta una serie di motivi. Vuoi perché in certi casi il fattore di moltiplicazione può tornarmi utile, vuoi perché costano meno, vuoi perché pesano di meno, vuoi perché le lenti costano di meno. Per tutta una serie di fattori ci si trova a possedere dei corpi camera APS-C perché capita, perché non possiamo avere tutte full frame e perché spesso neanche vogliamo avere tutte full frame. Quindi questo annuncio che ho visto girare in rete mi ha lasciato con molta colina in bocca perché sto aspettando da diverso tempo di andare a sostituire alcuni corpi macchina, poi io non li sostituisco mai veramente, nel senso che quando faccio un acquisto non è che il corpo macchina vecchio lo prendo e lo butto via e non lo vendo neanche. Tendo a tenerlo lì, sembro un accumulatore seriale di fotocamere in questo, però succede molto spesso magari che succeda qualcosa alla strumentazione, neanche, che ne so, il sensore sporco e quindi dico oggi non uso questa perché la devo ancora pulire, uso quell'altra. Quindi a parità magari di sensore hai una doppia camera e quindi se hai un problema su una delle due usi l'altra. In questo caso man mano che vai ad aumentare il tuo corredo aumentano anche le tue possibilità, perché nel momento in cui hai un cliente top di ci vado con la mia prima camera, nel momento in cui devi fare un battesimo per tua cugina magari non vai con la tua miglior camera, vai con il muletto. Per tutta una serie di motivi, per stare leggero, perché hai meno sbattimenti, per un sacco di motivi possiamo voler utilizzare dei corpi macchina PSC. Ovviamente ne possiedo e ne utilizzo tanti anch'io perché io ho la Canon EOS 700D, la 80D, la 7D, cioè ne ho tante. Per cui la notizia che alcuni di questi corpi macchina adesso vedono un successore nel mondo mirrorless mi ha lasciato parecchio elettrizzato. Nello specifico qui Canon ci aiuta un pochino mantenendo una parvenza di nomenclatura e andiamo a vedere per prima la Canon EOS R7. Questo è un corpo macchina che probabilmente sarà simile a quanto abbiamo già visto in ambito mirrorless con la Canon EOS R e con la Canon EOS R5 R6. Quindi sarà probabilmente un corpo macchina molto più piccolo, molto più leggero. Siamo sostanzialmente sicuri che avrà il monitor tiltabile e flippabile perché questa è una cosa che Canon ormai ha inserito in tutti i corpi macchina compresa la Canon EOS R3, quindi perfino l'ammiraglia ha la possibilità di flippare lo schermo. Questo perché Canon da sempre, ma dalla 5D Mark II proprio, ammicca al mondo dei videomakers. Quindi Canon vuole che le persone comprino le sue fotocamere anche per fare video. E quindi dotare tutti i sistemi di un monitor adatto è sicuramente una mossa intelligente. Vero è che un videomaker serio poi ha sicuramente un monitor esterno, però in questo modo Canon dà la possibilità a tutti di partire subito da zero dicendo io posso prendermi un monitor, posso farlo anche dopo però, perché così con la camera chiave in mano io posso cominciare a lavorare. Sono scomodo, non focheggio bene, non vedo bene, però comunque posso cominciare a lavorare. Poi, se non mi trovo bene e voglio fare delle migliori, e quello sta a me, mi compro un rig per la camera, prendo un monitor esterno, tutto quello che vuoi, però io posso cominciare a lavorare. Parlando del sensore, sarà un sensore impressionante, perché sarà un sensore APS-C da 32.5 megapixel, queste sono le specs che sono state rilasciate, quindi un sensore con una densità di pixel impressionante, nonostante le dimensioni. Avrà inoltre il dual pixel CMOS AF, quindi avrà un sistema di messa a fuoco che ovviamente sarà ereditato dalle ultime tecnologie implementate da Canon. Devo dire, e questo ogni tanto lo ripeto, tempo fa mi capitò di lavorare per Canon, e quindi ci fecero dei corsi sulle tecnologie Canon. Una cosa molto bella che ci hanno raccontato in quell'occasione è che nel momento in cui Canon implementa una tecnologia, che può essere un nuovo sistema di stabilizzazione, come può essere un nuovo sistema di messa a fuoco, o qualsiasi cosa, a cascata, viene prima implementato sulla miraglia, o comunque su una camera di pregio se la miraglia è già uscita, viene prima messo fuori su una camera di un certo peso, ma dopo a cascata viene riportato su tutta la linea. Quindi nel momento in cui noi adesso andiamo a prenderci un corpo macchina mirrorless APS-C, ci troveremo parecchie caratteristiche che ci hanno fatto sbavare vedendo magari la R3, quindi è possibilissimo che avremo dei sistemi di messa a fuoco molto complessi e molto elaborati, a fronte poi di un sensore ovviamente più piccolo, quindi con delle prestazioni magari in termini di sensibilità ISO in bassa luce che non saranno le stesse, magari il sistema di messa a fuoco non sarà altrettanto rapido, altrettanto performante, però comunque dovrebbe essere una tecnologia a fine. Quindi è molto probabile che avremo in ogni caso delle signore fotocamere rispetto a quello che siamo abituati ad avere prima, rispetto ai muletti che magari avevamo in casa prima, queste saranno camere di un'altra categoria. Lo capiamo meglio anche proseguendo nella lettura delle specs e andiamo a vedere per esempio che questa Canon R7 avrà la possibilità di scattare fino a 15 frame al secondo con l'otturatore meccanico e fino a 30 frame al secondo con l'otturatore elettronico, quindi stiamo parlando chiaramente di una camera che sì, vuole essere quella che succede alla 7D Mark II, però qui stiamo parlando di velocità supersonica e qui stiamo parlando di una camera che per rapidità di fuoco fino a una decina di anni fa avrebbe distrutto anche una miraglia. È una camera che ha poco da invidiare a altri modelli di cui abbiamo già parlato. Tenete anche conto che una fotocamera da 32.5 megapixel immagazzinare fino a 30 frame al secondo è una cosa veramente notevole, avrà bisogno di un buffer che lavora veramente come un matto. Sono anche curioso di vedere che cosa avrà come card slot questa camera, perché le specifiche che sono state rilasciate finora parlano di una doppia UHS-II. Voglio vedere, voglio capire nel momento in cui la camera verrà effettivamente rilasciata, voglio capire se questa doppia card è sufficiente per scrivere delle fotografie RAW da 32.5 megapixel con un ritmo di 30 fps. Voglio capire questa cosa, perché se poi dopo pochi scatti il buffer mi rallenta, il gioco non mi vale più la candela. Quindi questa è una cosa da capire. Sono convinto che se l'hanno messa performerà bene almeno fino a 30 fps. Poi se si va a 60 magari lì comincia a rallentare, ma quello è fisiologico, succede su qualsiasi camera. Questa è una cosa che voglio capire. Voi sapete benissimo, perché l'ho già detto in video precedenti, chi mi segue lo sa benissimo che tanto io la raffica non la uso. Quindi a me non serve. A me piace una camera come questa per tutto quello che ti offre, perché comunque ha delle specs molto interessanti. La raffica a me non interessa, però nel momento in cui la raffica è una delle specs che mi butti subito in faccia, sono curioso di capire come performa questa spec. Tutto qua. Veniamo al comparto video. Una cosa che a me, come sapete, comincia a interessare moltissimo. E questa camera ovviamente gira in 4K a 60 fps. Oh, finalmente! Adesso abbiamo una camera APS-C mirrorless che finalmente ci dà un bel 4K a 60 fps. Girare 4K a 60 fps è una cosa che può essere molto utile, perché magari io sto girando in 4K, ma voglio fare un minimo di slow motion per avere un effetto ancora più cinematografico. È bella questa cosa. Ci vuole ovviamente una camera che ti permetta di farlo, un corpo abbastanza prestante. Io sono convinto che abbiano implementato le tecnologie che abbiamo visto precedentemente in questi corpi macchina e quindi che ci ritroveremo dei corpi macchina in grado di gestirlo, questo 4K. E sono curioso di vedere come sarà il file d'uscita. Sono convinto che sarà molto bello. Voglio vedere che peso avrà e come sarà da lavorare, perché anche questa è una discriminante non da poco. Nel momento in cui noi giriamo in 4K, se è un 4K che riusciamo a gestire bene, quindi magari non è un 4K da una videocamera cinematografica che pesa come un camion, magari è un 4K un pochino più leggero, un pochino più smart, visto che si tratta di un corpo APS-C, non sarebbe male come idea avere la possibilità di avere un 4K facile da gestire, perché nel momento in cui abbiamo un 4K che si sbatte sul computer e non dà troppe grane al nostro processore, riusciamo a lavorarlo bene. A questo punto alziamo il livello di tutte le nostre produzioni perché diciamo, vabbè, se è un 4K che riesco a gestire, io lo introduco anche su clienti che non me l'hanno chiesto. Lo introduco per una cosa mia, perché comincio a dire, tiriamo sul livello di tutto quanto, poi al cliente magari che fa storia e si dice, guarda che ti ho anche messo il 4K, così lo galvanizziamo un pochino, ma non è neanche necessario dirgliela, perché questa è una specifica che il cliente non capisce il più delle volte. Quando un cliente lo chiede, dici, certo, certo, è già 4K, siamo già al passo con lo standard, anzi oltre, perché lo standard è ancora il full HD. E a proposito di full HD, ovviamente questa fotocamera ci farà il 120 fps in full HD, quindi è uno step successivo anche rispetto, per esempio, alle camere che possiedo io. Le mie camere, il 120p al momento, lo fanno soltanto in 720p, quindi un formato più piccolo, una risoluzione minore. Questa è una cosa che a me sta un po' qua onestamente, perché a me piace fare il 120p ogni tanto, non sempre, non giro quasi mai in 120p, perché sarebbe tutto molto più pesante e sarebbe stupido girare in 120p se poi deve andare a velocità normale, quindi di solito giro a 24 frame al secondo, sempre a 24. È il frame rate cinematografico, mi piace di più, mi trovo meglio così. Quindi preferisco girare così, anche perché comunque, ricordiamoci una cosa, si girava originariamente in 24 frame al secondo nel cinema, anche perché c'era la pellicola e la pellicola costava, quindi avere meno frame al secondo significava un costo di produzione minore. Le cose non sono tanto cambiate, perché comunque avere più frame al secondo vuol dire affaticare il nostro computer nel momento in cui andiamo a post-produrre, significa affaticare anche la nostra camera, il buffer della nostra memory card nel momento in cui andiamo a girare, quindi girare a 24, secondo me è assolutamente vantaggioso. Noi comunque dobbiamo consegnare un lavoro, a meno che non ci abbiano detto guarda, deve essere a 60 frame al secondo perché si deve vedere il bicchiere che esplode, o in quel caso 60 non bastano neanche, ci vorrebbe 2,40. Comunque nella maggior parte dei casi io giro a 24, giro a 120 solo se ho già in testa di fare uno slow motion abbastanza pronunciato e ci sta, ci sono certe scene dove ci vuole, ci sono molte scene dove basta il 60, ce ne sono alcune dove uno dice io qui faccio 120, così ho una garanzia in più, posso rallentarlo bene. Il fatto di poterlo fare a 1080 1080 è sicuramente un bel passo avanti rispetto a prima perché così finalmente posso girare. In 1080 il mio slow motion nativo è quello è. Poi vi dico la verità, se avete un progetto in 4K e avete fatto lo slow motion a 1080, tiratelo fino a 4K, non succede niente. Lo slow motion comunque avrà qualche problemino sempre di messa a fuoco perché è una cosa che magari stiamo facendo veloce e poi viene rallentata, anche se c'è quella lievissima differenza tra la risoluzione del 1080 e la risoluzione del 4K. Poi in ripresa non si nota, una volta che abbiamo il nostro montato, lo stacco non si nota, comunque il sensore è lo stesso, la color science è la stessa, la lente è la stessa, non se ne accorge nessuno. Un'altra cosa di cui sono molto curioso è il formato del file di uscita. Ovviamente questa nuova fotocamera include nativamente il formato C-Log 3, quindi io già sono incredibilmente impaziente di tenerne in mano una perché voglio provarla, voglio vedere questo C-Log come si comporta da questo sensore. Sono convinto che performi bene. Sono curioso di vedere se questo C-Log è disponibile poi su tutte le modalità. Voglio vedere se il C-Log c'è sia per il 4K che per il Full HD. Voglio vedere se c'è il C-Log sul 120p, per esempio. Questa è una cosa che mi incuriosisce perché ogni tanto per una questione interna di produzione si decide magari di implementare solo certe funzioni e magari poi ci si trova con sì, ti do lo slow motion a 120p però non c'è il C-Log. Questo sarebbe seccante. Questo veramente sarebbe un po' seccante. Cioè, per carità, signora camera lo stesso e alla fine ti prendi quello che c'è perché comunque dici questo è quello che offre il mercato, mi serve, sì, me lo prendo, no, non mi serve, voglio un'altra cosa, va bene, vai, tranquillamente. Diciamo che a me interessa comunque, però mi piacerebbe molto vedere questo C-Log applicato a tutti i formati video che io sono in grado di produrre. Questo sarebbe un plus non da poco. Ultima spec che è trapelata filora, sembra che avremo in body stabilization, quindi sarà un'altra, l'ennesima fotocamera ormai della serie R che avrà uno stabilizzatore interno, quindi questo ci permetterà probabilmente di arrivare fino a 8 stop di stabilizzazione se uniti allo stabilizzatore della lente. Devo dire che le lenti della serie R sostanzialmente sono tutte stabilizzate, hanno tutta la stabilizzazione interna, quindi nel caso della mia EOS R che non ha la stabilizzazione nel corpo, sto usando solamente la stabilizzazione della lente, nel caso di R5, R6, R3 o in questo caso R7 avremo anche la stabilizzazione nel corpo, quindi questi due sistemi di stabilizzazione sommati pare che portino la camera, pare, è stato testato comunque, portano la camera fino a 8 stop di stabilizzazione, il che significa che si potrà quasi tranquillamente scattare una fotografia a un decimo di secondo a mano libera con una lente magari da 70 mm, che è una cosa veramente notevole. Tenete conto che a me capita magari di scattare a un quindicesimo di secondo, ma con un grand'angolo, con il 16 mm, io mi permetto in scarsità di luce e se la scena è statica, perché se c'è movimento viene mosso, però se sto facendo una scena statica, un paesaggio, un interno, e non c'è luce, e sono fuori col mio 16 mm, mi concedo di scattare fino a un quindicesimo di secondo, con la stabilizzazione della lente ovviamente, non ovviamente senza. mi concedo questa cosa e di solito me la cavo, però un grand'angolo, anche abbastanza spinto, nel momento in cui mi dicono guarda lo puoi fare con un 70 mm, anzi puoi salire ancora un pochettino, puoi andare a un decimo di secondo, caspiterina, cioè questa è veramente una piccola rivoluzione, vuol dire che per molte cose non è che non servirà più il cavalletto, perché comunque per fare le cose in qualità il cavalletto ci vuole ancora, però la possibilità di dire io scatto in quella maniera lì perché sono in emergenza, è una cosa che magari io sono fuori a fare un lavoro, il cliente non mi ha chiesto di portarmi il cavalletto, perché dovete sapere che i clienti sono un po' barbini, ti dicono facciamo questo, questo e quest'altro e tu gli dici sicuro eh, facciamo questo, questo e questo, sì 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 sicuro, poi quando arrivi lì ti dicono ah ho pensato, potevamo fare anche quell'altra cosa, e tu dici bravo, io per quello te lo chiedevo, se me lo dicevi portavo il cavalletto, mi hai assicurato che si facevano solo queste tre cose, il cavalletto non serviva, non l'ho portato, ragazzi la roba pesa comunque, io non porto roba inutile se il cliente non me la chiede, nel momento in cui abbiamo otto stock di stabilizzazione, se un cliente ha fatto il barbino e se ne viene fuori con le idee geniali e creative all'ultimo, e con questo sistema ce la caviamo un po' meglio. Detto questo, le specs trappelate per ora per la Canon EOS R7 sono finite, l'uscita di questa camera è stata annunciata per la fine dell'anno, la fine del 2022, quindi insomma, siamo curiosi di vedere che cosa ne verrà fuori, io particolarmente sono molto curioso, non dico che correrò a comprarmi una Canon EOS R7, perché probabilmente non lo farò, però sono molto curioso di vedere che cosa verrà fuori, perché potrebbe, dico potrebbe, andare a rimpiazzare per esempio la mia Canon EOS 80D, che è una camera che mi piace tantissimo, è una camera che ho preso soprattutto per fare video, l'ho presa tempo fa, presa quando è uscita, sostanzialmente l'ho presa con l'idea di dire questa fotocamera la uso per fare soprattutto video, ovviamente se ci fossero state le mirrorless all'epoca, ci avrei fatto un pensierino, perché ho preso una reflex per fare video, come voi ben sapete io amo le reflex, mi piacciono ancora di più rispetto alle mirrorless, ma mi piacciono per fare fotografia, quindi nel momento in cui io devo fare video, avrei preferito un'opzione mirrorless ovviamente, adesso che esce questa nuova tecnologia, l'idea di andare a rimpiazzare la mia EOS 80D con una fotocamera mirrorless, mi solletica parecchio, quindi sicuramente starò molto attento a questa cosa, terrò gli occhi bene aperti, ma cambiamo un attimino tavolo da gioco e andiamo a parlare anche della seconda fotocamera PSC mirrorless che è stata in qualche maniera annunciata da Canon, stiamo parlando della Canon EOS R10, in questo caso anche qui qualcuno ha speculato sul fatto che questa camera andasse a sostituire la serie M per via di quel numerino 10, quindi potrebbe essere la camera successiva dopo Canon EOS M5 e M6, ovviamente questo è molto plausibile anche vista le specs, chiaramente la serie M a questo punto viene dismessa perché era una serie che era carina, vi dico la verità, io ho la Canon EOS M, è una serie che non mi è dispiaciuta per niente per le caratteristiche che racchiude in un corpo macchina mirrorless, piccolissimo, leggerissimo, molto portabile, è comunque una camera che offre delle caratteristiche interessanti, non ha una qualità stellare, perché comunque stiamo parlando, cioè neanche di un mulletto, stiamo parlando di una terza camera che uno può utilizzare per fare dei B-roll, ecco, per questo va molto bene, oppure è una camera pensata per fare vlog, quindi vlog all'aperto con il microfonino Rode sopra, così va benissimo, ovviamente io non vado a fare vlog con la Canon EOS R3, cioè va bene tutto, ma no dai, cioè quello non ha senso, è una camera che va benissimo per contesti di questo tipo, è una camera che io uso tuttora, che mi piace, con cui mi trovo bene, con cui c'è anche la possibilità di usare il profilo colore sine style per avere una parvenza di log, quindi è una camera che non è male, è una camera che tutto sommato offre parecchio, ha delle specs anche carine, qui ovviamente facciamo un salto di qualità, perché Canon sta dando delle zampate pazzesche al mercato, d'altronde deve recuperare, dopo le botte che ha ricevuto da Sony in questi anni, e direi che ce la sta facendo. Andiamo a vedere un po' di specs di questa nuovissima Canon EOS R10, partiamo subito con il sensore, abbiamo un sensore da 24.2 megapixel, quindi già partiamo un pochettino più in sordina rispetto alla R7, però stiamo comunque parlando di 24 megapixel, vi ricordo che la Canon EOS 5D Mark II che ho recensito di recente, vi lascio il video in card, una camera della Madonna, una full frame che ancora oggi, insomma se la cava, io la uso quella camera lì, mi capitano dei lavori anche importanti, io uso quella. Nel 2021-2022, quando mi è capitato di dover fotografare degli showroom, ho portato quella, perché comunque ho la Mark II e la Mark IV, e mi sono detto, la Mark IV qui non mi serve, è completamente sprecata, non mi servono i punti di messa a fuoco, non mi servono tutti quei megapixel, le immagini andavano, sì, su dei giornali, su delle riviste locali, ma non andavano a pagina intera, quindi 30 megapixel non mi servivano, la messa a fuoco veloce, la Mark IV non mi serviva, mi serviva soltanto il sensore, allora ho usato la Mark II, in tutta tranquillità, quindi per quanto riguarda i megapixel, questa ne ha di più, la Canon EOS R10 ha più megapixel delle vecchie full frame, quindi stiamo parlando di una fotocamera che ti dà un formato finale di immagine assolutamente spendibile, è un'immagine gigante. Anche qui abbiamo degli fps interessanti, perché abbiamo 15 fps con l'otturatore meccanico e 23 con l'otturatore elettronico, quindi di nuovo stiamo parlando di velocità supersonica, anche se per quanto riguarda la massima velocità, non arriva a 30, ma arriva soltanto, si fa per dire, a 23, quindi è una velocità comunque pazzesca, stellare, qui abbiamo un singolo car slot con la UAC D2, quindi anche qui bisogna vedere poi se la camera regge. Sono meno preoccupato qui rispetto che sulla R7, qui sono abbastanza sicuro che reggerà abbastanza bene perché i frame sono di meno, la memory card è la stessa, quindi insomma sono abbastanza sicuro che qui riusciremo abbastanza bene a tenere i frame a secondo per la raffica, anche se come già detto in precedenza io non la userò, è solo una curiosità. Ora per quanto riguarda le specs interessanti su questo corpo macchina, devo dire che per quanto ho notizia io ci fermiamo qua, nel senso che è stato annunciato un formato HDR, quindi avremo la possibilità di avere del girato con una gamma dinamica espansa, cosa che c'è già in altre camere che io possiedo, per esempio nella Canon EOS R c'è la possibilità di girare in HDR, una cosa che è bello che ci sia perché ogni tanto può servire ma che non ti cambia la vita, è meglio un bel log. Qui io non vedo annunciati i formati video per il momento, quindi è possibile che stiano per trapelare, che arrivino, per il momento con i dati che ho in mano io non vedo delle specifiche video interessanti per questo modello, quindi non sono tanto propenso a buttarmi sulla Canon EOS R10 per il momento perché non ha quello che mi serve in questo momento. Se dovesse venire annunciato che ha un bel 4K, allora la cosa cambia, anche se io dubito moltissimo che avremo il 4K con i 60 frame al secondo e dubito anche che avremo il Full HD a 120. è molto probabile che ci sarà uno stacco tra queste due camere, quindi fasce di prezzo molto diverse e quindi è molto probabile che avranno delle differenze significative anche di utilizzo. Ovviamente a quelli che pagano di meno non si può dare tutto quello che hanno quelli che pagano di più, sennò sarebbero stupidi quelli che pagano di più, quindi sono convintissimo che su questo ci sarà una differenza significativa. Detto questo però, per chi è allora questa camera? Per chi sono queste due fotocamere? Allora, la EOS R7 sicuramente è per chi magari amica al professionismo, è per il professionista che magari ha già un corpo macchina full frame e vuole una seconda camera, oppure è per chi vuole fare B-roll di una certa qualità, oppure è anche per chi vuole magari prendersi la R5, la R6, ma non se lo può permettere. Allora magari si va su un corpo macchina lievemente inferiore che comunque ti permette di lavorare, perché qui comunque ti permette di lavorare bene un corpo macchina così. Mentre per chi è la R10, la R10 secondo me è per chi fa vlog, in teoria, per chi fa vlog e quindi va a sostituire la serie M che chiaramente ammiccava a chi doveva fare vlog, faceva anche le fotografie decentemente, sì per carità, però era una fotocamera pensata per fare video, era tutta improntata sul video, aveva un po' di funzioni, aveva anche il 4K alla serie M, quindi aveva già il 4K all'epoca, non reggeva bene anche per una questione di memory card, di buffer, però adesso sono assolutamente convinto che rega abbastanza bene. Lo troverei un po' sciocchino, non mettere niente di 4K sulla EOS R10, lo troverei così un po' frivolo, cioè stai abbassando, potevi avere una camera che poteva essere un po' ibrida, stare a metà tra le due categorie, tra i vlogger e i semiprofessionisti, se gli togli il 4K vai diretto solo sui vlogger, in quel caso me la sentirei di dire che il 4K non serve, perché insomma se dobbiamo fare vlog, dobbiamo andare online in fretta, a quel punto non ci serve il 4K, anzi forse ci ostacola anche un pochino perché magari dobbiamo poi passarci le cose, magari siamo in giro, dobbiamo passarci le robe via wifi sul telefonino, sul computer e andare online subito perché abbiamo fretta di uscire, in quel caso girare con un bel 1080 è meglio perché ci permette di uscire subito con meno dispendio di dati, quindi in quel caso sarebbe comunque un vantaggio. Io preferirei averlo il 4K perché io sono capacissimo di dire oggi giro il 1080 anche se la mia camera ha il 4K quindi preferirei venire a sapere che c'è il 4K su questa camera. In quel caso sarei molto indeciso su quale delle due andare a selezionare per andare a sostituire qualcosa di vecchio che ho qui in casa. Diciamo che ovviamente la R7 mi piace di più, ha anche un costo non indifferente quindi io stesso sono indeciso perché io comunque la userei per fare video industriale magari e in quel caso mi servirebbe moltissimo il 4K e anzi più ancora che il 4K mi servirebbe il 1080 a 120 perché nel video industriale la possibilità di girare certe scene a 120 lì sì che ti fa la differenza scintille, fiammate se si fanno a 120 hai delle possibilità in più notevoli quindi mi fa molto 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 gola la nuova EOS R7. Bisogna vedere che cosa offre la R10. Ci aggiorneremo magari quando ci sono un po' di notizie in più su queste due fotocamere io per il momento volevo soltanto farvi questo aggiornamento per raccontarvi questo piccolo inside dentro nel mondo della fotografia. So che non è la mia usuale tipologia di contenuto però è un'ottima occasione per farmi sapere se questo tipo di contenuto vi interessa quindi lasciatemi un like se vi è piaciuto il video lasciate un commento per dirmi sì questo contenuto ci piace oppure no cretino torna a fare quello che facevi prima accetto entrambi i suggerimenti vi ricordo anche di iscrivervi perché se non vi iscrivete non saprete mai quali saranno le prossime puntate quindi se avete lasciato un commento per dirmi che volete un contenuto e non siete iscritti e poi ve lo dimenticate quindi cliccate anche la campanella perché così avete un reminder che vi aiuta perché vedete la campanella e sapete che c'è un contenuto nuovo che potrebbe anche interessarvi molto amici con questo è tutto io vi saluto e io e Canon EOSER vi diamo appuntamento al prossimo video A presto